Il nostro obiettivo è stato quello di sviluppare la migliore gamma di motoseghe al mondo. Per fare ciò, abbiamo dato ascolto alle richieste dei nostri utilizzatori. Questo ci ha permesso di sviluppare la migliore gamma di sempre. Abbiamo voluto creare un design che enfatizzasse anche ciò che è all'interno. E lo abbiamo fatto in modo non convenzionale, disegnando la motosega con il concetto di strati. Il nero opaco delle parti esterne si alterna al nero lucido e al giallo delle parti interne che fuoriescono, esprimendone tutta la potenza. L'obiettivo principale era creare un design da look accattivante e di grande effetto sull'utilizzatore. Le linee in movimento e le superfici tese esprimono infatti forza e un'estetica davvero aggressiva. Un dettaglio importante è la linea sul carter di aspirazione, creata per dare un particolare senso di movimento e di dinamicità. Questa nuova gamma di motoseghe è veramente all'avanguardia, grazie alle sue caratteristiche tecniche come il soft start e il ten di catena senza utensili. garantisce lunga durata nel tempo e sicuramente the power to get it done. Questa è la nuova ed esclusiva gamma di motoseghe. McCulloch ha una lunga e splendida storia nella produzione di motoseghe. E questa nuova gamma è un ulteriore passo avanti. Grazie.